La procura di Vallo della Lucania ha presentato un totale di 778 capi d'accusa di cui 27 riguardano il reato di corruzione. Queste accuse sono oggetto di valutazione da parte del giudice istruttore che sta conducendo l'udienza a preliminare dopo una richiesta di rinvio a giudizio. Il cospicuo numero di persone coinvolte, 373, ha reso necessario che l'udienza preliminare si svolgesse a Salerno nella cosiddetta aula bunker. Le parti si riuniranno ai primi di luglio per discutere delle questioni preliminarie e delle richieste diritti alternativi. Oltre le accuse di corruzione, gli imputati sono stati contestati anche falso commesso da pubblico ufficiale e truffa aggravata, inclusa la tentata truffa. L'indagine dei carabinieri della Compagnia di Agropoli era partita da una segnalazione dell'ufficio scolastico regionale che aveva evidenziato irregolarità riguardanti l'assunzione di alcuni docenti nel 2018. Le indagini hanno portato poi alla luce un istituto paritario di Castellabate che sembra essere stato il luogo in cui molti documenti sospetti sono stati formati. Secondo le accuse, coinvolti nella attività ci sarebbero collaboratori esterni e intermediari che avrebbero facilitato e promesso pagamenti fino a 4.000 euro per ottenere falsi diplomi. Gli indagati sono distribuiti in diverse regioni d'Italia, la maggior parte nell'agronocerino sarnese ma anche in altre zone della Campania, tra le province di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta nonché comuni del nord Italia.